natale il caffè stamattina come lo prendi? lo prendo questo del caffè noi lo prendiamo sempre speciale sempre speciale sempre bello caldo specialmente quando si prende in compagnia con gli amici e ma ora è il periodo delle feste e quindi tu cosa 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 proponi? offriamo pure la caramellina pure la caramella al caffè ma dimmi dimmi ho visto io tanto e tanti regali tante cose cosa offri tu agli amici in questo periodo? come si può vedere abbiamo un vasto assortimento vini grappe cesti natalizie già convenzionati da convenzionare ma anche fai spedizione eventualmente facciamo tutto spedizione in tutta l'italia chiaramente estero no e un'altra cosa che abbiamo pure un vasto assortimento di panettoni fiasconaro bonollo e vini della cantina caruso e minini orestia di tenuto orestia di donna e giacoma un vasto assortimento grappe di qualsiasi marca whisky pregiato eccetera 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 e ordinando qualche cesto confezioni quello che sia entro il 10 dicembre praticheremo un ulteriore scondo del 10 per cento ah ma questa è una bellissima notizia che gli amici sicuramente apprezzeranno una buona giornata dal dal vostro amico giovanni alessi ma anche dal vostro amico natale con il cappello mio che adesso io mi rimetto e quindi facciamo così ecco una buona giornata a voi tutte amici ed amiche buongiorno ciao